L'importanza della formazione per un amministratore locale, per un amministratore pubblico che ha il senso del rispetto dei soldi pubblici è fondamentale, è fondamentale perché le basi che animano un'azione amministrativa devono essere guidate da valori, valori importanti, valori che vanno studiati, non possono essere soltanto delle intuizioni. Le intuizioni vanno bene ma la formazione è sostanziale perché dietro ogni scelta amministrativa, dietro ogni scelta politica c'è una persona in carne ed ossa, una persona che ha bisogno di soddisfare i propri bisogni e non farsi alimentare i desideri. Allora ACAF, che è un'associazione di alta formazione politica e la fondazione Fedus, che io presiedo, hanno voluto offrire, partendo da Fiumicino, un servizio a numerosi, chiamiamoli studenti di Fiumicino, che si avvicinano alla pubblica amministrazione. Sono oltre 70 iscritti che avranno lezioni sulla base fondamentale di come si forma una scelta politica amministrativa. Quindi voglio ringraziare anche i numerosi relatori di rango nazionale europeo che sono intervenuti ad insegnare, a formare questi nostri allievi, questi nostri giovani e non giovani, perché è fondamentale avere vicino anche persone che possono trasferire anche la loro esperienza tecnica e amministrativa alle nostre future classi dirigenti.